amicone belle e amiconi belli so che molti di voi come ogni venerdì alle 17 siete lì comodi comodi seduti sul vostro divano aspettare una mia ricettuzza bene per oggi non ci sarà una ricettuzza pubblico questo video questa sigla del prossimo video che uscirà a breve e sono le piedine fatte in casa e vi assicuro che sono venute bellissime buonissime e soprattutto morbidissime come vedete qui nella sigla come ogni solito vi faccio vedere sempre l'andeprima di ogni ricettuzza qui vi faccio vedere come ho impastato la piedina e qui la sto cuocendo guardate come si gonfia eccola lì adesso metto un filino d'olio ho sbattuto due uova ma poi vedete la ricetta completa breve qui è tanto per farvi vedere in quanti modi in quanti gusti si può riempire si può farcire guardate come morbida come pieghevole qui ho fatto una specie di kebab o di kebab al pollo guardate che bella quindi amicone belle a breve ci vediamo quando prima nel frattempo vi auguro un buon fine settimana ciao a tutte